Lui ci siamo, adesso vado a calare i rigatoni all'interno della padella dove ci sono le zucchine e la salsiccia che ho sbriciolato, insieme ovviamente alla pancetta affumicata. Un po' di acqua di cottura e siamo pronti per l'impiazzamento. Avevo della provoletta affumicata di agenola, io la vado a mettere dentro. Adesso saltiamo e impiattiamo, ok? Si sente un profumo che non avete proprio idea, raga, e che bello di caffè. La provoletta sta affilando insieme alla salsiccia e alla zucchina. Ecco qua, pronti per l'impiattamento. Scusate se mi passo davanti ogni tanto, ma che cosa non è? Opla! Recuperiamo un po' di sughetto. A questo punto, una buona sformaggiata di parmigiano reggiano. Una smacinata di pepe, che sapete benissimo che a me piace tanto. E andiamo pronti per l'assaggio.